Salve a tutti, sono Brian Fari, ed eccoci con un nuovo autofire. Devil May Cry, nato da una costola di Resident Evil, diretto da colui che mi bloccò su Twitter, Hideki Kamiya. Premetto che non ho mai giocato il secondo capitolo per vari pregiudizi infantili che non ho ancora avuto modo di risolvere, e spero di poter prima o poi appianare questa divergenza personale per poter capire il perché di tutte le critiche al titolo. Ma adesso... Let's Walk, Baby! Fatemi sapere la vostra. Al quarto posto, Devil May Cry 4, del 2008. Pregio, varietà introdotta col personaggio di Nero che finalmente riesce effettivamente a dividere due differenti tipi di gameplay hack and slash, aumentandone la varietà passando dal suo Devil Bringer allo stile classico di Dante. Difetto, seconda metà di gioco prettamente identica alla prima, un backtracking noioso e inconcludente che rischia di far abbandonare il titolo prima del Tour de Force finale. Al terzo posto, DMC, Devil May Cry, del 2013. Pregio, per quanto il sistema di combattimento sia leggermente più vario, per quanto meno tecnico, il padrone in questo titolo è la colonna sonora. Difetto, setting più americano, portando quindi una deriva che personalmente preferisco meno, volgare e differente dal contesto originario giapponese. Jolly per l'uso derivato dell'Unreal Engine, sembra che tutti ridano sempre. Al secondo posto, Devil May Cry 3, Dante Sawakenning, del 2005. Pregio, Devil May Cry 3 ha dimostrato che quando un titolo non riscontra i favori di pubblico e critica, se c'è il giusto backlash si può sviluppare un seguito migliore sotto tutti gli aspetti. L'innovazione in questo titolo è portato dagli stili, cambio di stile di gioco scelto all'inizio del livello che permette di avere una varietà personale conforme al proprio stile di gioco. Difetto, nonostante questa innovazione, il titolo si dimostra molto simile, forse anche per paura di non rischiare, al primo capitolo, oltre ad essere semplificato nella sua versione speciale. Jolly per Virgil nella Special Edition, un semplice reskin di Dante. Mega Jolly per la versione PC del tempo che posseggo. Davvero, senza parole. E al primo posto, Devil May Cry, del 2001. Pregio, realizzato da uno scarto di Resident Evil, il primo Devil May Cry prendeva la formula ancora cerba degli hack and slash nipponici, separandosi dal padre Musou e creando un misto tra un Resident Evil e un action adventure in terza persona. La cosa che sicuramente rimane più impressa è la adrenalinità dovuta allo stylish style, un contatore di combo espresso in lettere crescenti, dalla D alla S, triple S nei successivi. Il contatore, crescendo di figaggi neanche a livello visivo, invoglia il giocatore a creare combo sempre più concatenate e durature, legando armi bianche con armi da fuoco. Difetto, lentezza derivata dalla branca da cui nasce, perfetta per il brand madre, ma decisamente meno per un hack and slash. Per quanto l'esplorazione e gli enigmi siano di tutto rispetto, molte volte spezzano il ritmo di gioco, portando a lunghi corridoi senza effettivi combattimenti, magari per la risoluzione di un enigma. Comunque questo è tutto anche per quanto riguarda quest'autofire. Il prossimo, e qui ci buttiamo sul pesante, dopo uno piccolo, ce ne vuole uno ben più grosso, sarà su Kingdom Hearts. E noi quindi ci vediamo al prossimo autofire! Me ne accorgerei!